Siamo con Giulio Bisegni, centro 26enne delle Zebbre, è cresciuto nelle Frascati, poi è passato la Lazio Rugby da 4 anni qui a Parma. Dopo le trafile delle nazionali giovanili, fai il tuo esordio nel massimo campionato italiano con la Lazio Rugby. Qual è il tuo più bel ricordo della tua carriera giovanile? Allora, sicuramente uno dei ricordi più belli non può che essere la finale giocata nell'Under 20, l'anno in cui giocavamo con il 90, 91 e 92, la finale del campionato nazionale. All'epoca ancora c'era il campionato nazionale Under 20, partita che purtroppo abbiamo perso dopo una stagione che ha del romantico, quindi insomma abbiamo vinto partite su partite perdendo purtroppo l'ultima, la più importante logicamente, ma è il ricordo più importante per me delle giovanili. Dopo aver assaggiato il Guinness Pro 14 come permit player, arrivi poi alle Zebbre a 21 anni nell'estate 2013. Dopo 5 anni qui a Parma, in cosa pensi di essere migliorato a livello tecnico? Beh, logicamente quando uno arriva è sempre un po' più acerbo, sei giovane, hai diciamo tanta esuberanza, quindi comunque hai voglia di fare, logicamente hai meno quella pazienza, quella precisione che poi contraddistingue un po' la crescita e la maturazione poi di un giocatore, un po' di tutti. In generale penso comunque di essere migliorato molto nelle letture offensive e difensive, soprattutto nelle ultime stagioni in cui abbiamo prediletto un gioco prettamente offensivo con la palla in mano e comunque una difesa sempre arrembante. Mentre invece quali sono i miglioramenti a livello mentale? Ecco, quelli tanti, sai, appena arrivi comunque hai voglia di dimostrare, però appena fai un errore logicamente puoi buttarti giù, logicamente, insomma, è una delle skills ormai più richieste nel professionismo, quella di cercare di rimanere sempre concentrato e di essere soprattutto lucido in uno sport che è, logicamente, la massima espressione però della fisicità, quindi logicamente questa, quindi la gestione della pressione e dei momenti clou della partita è una skill che, logicamente, si impara un po' nel tempo con l'esperienza e che ho acquisito maggiormente, insomma. Hai risaputo che tu sei uno dei giocatori più estroversi dello spugnatore delle zebbre, per cui, oltre alla preparazione tecnica e fisica, quanto conta il gruppo nel rugby? Allora, per la mia concezione tanto, sì, effettivamente è così, sono sempre uno, ecco, visto come un po' il terrone del gruppo, vengo da Roma, sono quello che sta sempre in mezzo agli scherzi, a giocare, sono quello che coinvolge sempre i nuovi, insomma, anche insieme ad altre personalità nello spogliatoio. Conta tanto, se non hai voglia di stare con il compagno, di batterti per lui, logicamente, in uno sport in cui si combatte insieme, dai sicuramente qualcosa in meno. Cerco quindi di essere comunque sia un esempio fuori che dentro al campo, cercando sempre di coinvolgere tutta la squadra, cercando di stare insieme, di scherzare, sono io, insomma, un po' quello che dà fastidio, fai gli scherzi nello spogliatoio, insomma, crea un po' di divertimento, su, crea un po' di caos. Mentre invece fuori dal campo, come vivi questo rapporto con i tuoi compagni? Ma sicuramente bene, perché alla fine di tutto abbiamo un gruppo veramente molto unito, molto giovani, quindi logicamente non c'è neanche una grandissima spaccatura tra quelli che sono i veterani, che logicamente sono praticamente ridotti all'osso, probabilmente viene in mente solo Giorgio, che è l'ultra trentenne del gruppo, e poi abbiamo tutti i ragazzi, insomma, di 22-21 anni, le nuove leve, quindi manca un po' lo zoccolo duro delle persone adulte e siamo tutti noi giovani, quindi noi fuori dal campo in realtà siamo molto uniti e siamo sempre insieme. Sei un duttile tre quarti in campo, per di più impiegato come secondo centro. Quali i compiti principali per chi porta la maglia numero 13 come te? Beh, il 13 è un ruolo un po' di sensibilità, perché è quello che nelle fasi difensive ha un po' la maggiore attenzione sulla difesa, perché è quello che chiama da fare, diciamo, le scelte dall'esterno, e altrettanto un po' nella fase offensiva, perché soprattutto nel rugby moderno, in cui ci sono delle difese che mettono grande pressione, diventi un po' gli occhi dei tuoi compagni all'interno, quindi è quello un po' della sensibilità, della comunicazione, sia offensiva che difensiva. Nella preparazione di ogni sfida, fatta anche con l'analisi video, come studi il tuo avversario diretto che affronterai poi nelle fine settimana? Anche questa è una cosa che ho imparato a fare poi nel tempo, appena arrivato per me era più prettamente una cosa fisica, nel senso che era da, anche tecnica per carità, però sempre da stare sul campo con la palla, insomma, per essere più veloce, più forte. Maggiormente ho acquisito questa cosa con il tempo, e tuttora, insomma, è una cosa che facciamo ormai sempre, stiamo cercando di trasmetterla come un'abitudine anche ai giovani, perché lo studio dell'avversario, logicamente, è una cosa fondamentale. E ora, nel giorno libro, ci ritroviamo spesso tutti insieme, spesso chi prima, chi dopo, a studiare sia il nostro diretto avversario, sia la squadra, diciamo, in modo un po' più preciso, a, insomma, determinate situazioni di gioco. Nel rugby moderno, sempre più veloce ed aggressivo, c'è sempre meno tempo utile per decidere una giocata per voi tre quarti. Come si batte, dunque, una linea molto alta? Beh, una linea molto alta, logicamente, va battuta o attaccando veramente, togliendo il tempo, quindi con l'apertura che già sul tempo del passaggio ha preso l'altezza, e cercando di giocare gli angoli, quindi cercando di mandare fuori tempo, che, logicamente, risulta proprio ridotto un qualche giocatore, quindi di mettere già nel canale qualche persona, o cercando di rimanere talmente profondi che, insomma, si tagliano quasi fuori da solo, quindi, deve essere un buon compromesso da due. Diciamo, la via di mezzo non è accettabile, quindi, ovviamente, stai a spari dei passaggi dietro i dieci metri, o li vieni ad attaccare veramente sul muso, aspettando che prima o poi qualcuno sbagli, insomma, la spalla, o faccia la decisione sbagliata. Mentre invece, come ti piace interpretare la fase difensiva? Ecco, a me personalmente, come dicevo, ha un ruolo un po' di sensibilità, poi io appena ho la sensazione di aver, diciamo, preso nel mirino qualcuno, cerco sempre di andare a togliere spazio e tempo, quindi di uscire dalla linea e di andarlo a prendere palla in mano. Non è, diciamo, una cosa che è richiesta sempre, però è una cosa che a me piace fare, ecco. Ogni stagione crescono per tre minuti e anche le mete segnate con le zebbre. Arrivando l'anno scorso a conquistare il premio di Ironman, uomo d'acciaio del Guinness Pro 14 per il più alto numero di minuti giocati in campo. Qual è dunque il tuo segreto di continuità? Segreto? Logicamente sono passato tramite due infortuni alle ginocchia e solo anche questa cosa, un po' col tempo, ho capito quanto è importante sia la prevenzione sia la cura del proprio corpo, quindi è una cosa importante, non c'è un vero e proprio segreto, insomma è risaputo che fare delle sessioni di mobilità, di stretching, di prevenzione, quindi di proprio scettiva è una cosa che aiuta e che solo con il tempo, come ti ho detto, ho imparato a fare pure quello, a mie spese, logicamente, perché insomma dopo che mi sono rotto prima il ginocchio destro, poi il sinistro, ora sono un po' più attento al mio corpo e anche grazie un po' di fiducia degli allenatori, logicamente, perché giocare tutti quei minuti è un po' la combinazione di queste cose. Venerdì la partenza delle Zebra per l'Inghilterra, dove comincerà la Challenge Cup delle Zebra e quali gli obiettivi in questa Coppa Europea vi siete fissati? Gli obiettivi sono quelli di, logicamente, cercare di fare le tre partite in casa da punti, cioè da vittoria o cercare di fare veramente una partita, insomma, offensiva in cui portare almeno due punti a casa, di cercare poi di andare all'estero, specialmente, insomma, in Russia, a cercare di portare punti, non dico facili, però, insomma, da bonus difensivi o offensivi. Quindi cerchiamo, logicamente, di passare il turno, sarebbe l'ambizione più grande. Sappiamo che non è semplice, però sicuramente quella delle partite in casa è il primo step. Si partirà, invece, in trasferta, sabato all'Ashton Gate di Bristol. Che sfida ci aspetta contro i Bears alle 16 in diretta su Dazzon? È una sfida sicuramente piacevole. Loro, allenati da Pat Lem, che noi conosciamo, è stato allenatore del Connect, quindi sappiamo come gioca, ama molto giocare, insomma, alla mano. È una squadra che gli piace fare movimenti molto particolari, insomma, prova sempre pure degli schemi un po' fuori dal normale per cercare di ingannare, insomma, la difesa. Hanno dei giocatori pure isolani che glielo permettono, insomma, forti quindi nell'uno contro uno, con un po' di flair, che gli piace, insomma, giocare oltre alla difesa, inventare. Noi andiamo lì per interpretare un rugby, diciamo, leggermente più efficace, sempre giocando un po' alla mano, ma con un'aggressività in difesa per cercare di ricavare da questo un po' di palle di recupero e cercare, insomma, di andare a segnare. E allora in bocca al lupo a Giulio Bisieni e le Zebra. Grazie mille, ciao a tutti.